Buongiorno a tutti, bentrovati a questa nuova puntata di Radio Coltiva la Crescita. Sono qua con Silvio. Ciao Silvio. Ciao Cristina, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Allora Silvio, oggi siamo qui per rispondere a una domanda che è arrivata a valle dell'ultima puntata che abbiamo fatto, dove abbiamo parlato dei vampiri energetici. E c'è scritto un nostro ascoltatore, una mail, in cui ci domanda, ci dice Sono circondato da persone lamentose, al lavoro e purtroppo anche in casa. Penso di essere un buon ascoltatore, ma non ce la faccio più. Consigli da darmi? Prima di lasciarti la parola e rispondere a questa domanda, io ricordo come sempre a chi ci ascolta di mettere mi piace al video, di condividerlo e per chi vuole di iscriversi al corso 100% gratuito Cambia Marcia Start, lasciamo il link in descrizione come ogni volta. Bene Silvio, io ora ti lascio la parola e dici un po' cosa fare con questi parenti e colleghi lamentoni. Grazie parenti, amici, colleghi, vicini, io parlerò di una mia vicina. Intanto, ma mi dispiace tantissimo perché lui dice di essere un bravo ascoltatore. Allora già la macro risposta è, visto che sei un bravo ascoltatore, usalo con altre persone. Ascolto, questa potrebbe essere la macro risposta. Ad ogni modo, i lamentoni, i lamentosi, in Cambia Marcia nel nostro ecosistema coltiva la crescita li chiamiamo questa cosa qui il lamentismo, no? Questo atteggiamento per cui incontri il vicino per strada e gli chiedi come stai e non sta mai bene perché c'è sempre un'altra cosa. O il tuo amico che ti telefona per chiederti consigli, ma in realtà vuole solo sfogarsi e lamentarsi di continuo e non vedi mai un suo sviluppo, no? Chi è che non ha questi, purtroppo, queste relazioni qua? E quindi, bene che abbia fatto il nostro amico questa domanda e sono contento di rispondere perché se non vedi questi meccanismi e se non capisci come fare a gestirli, hai delle conseguenze perché la scienza, quella vera, ha dimostrato che sia chi si lamenta e sia quelli che purtroppo subiscono tanto lamentismo tutti e due hanno delle conseguenze sia psicologiche che fisiche anzitutto perché naturalmente, questo è chiaro, adesso parlo soprattutto di chi purtroppo è esposto e deve ascoltare questi lamentosi ti drenano energia, cioè ti massacrano avrete avuto tutti esperienza io sì, mi ricordo il primo anno che ero qui con la mia vicina di cui vi dico qualche cosa dopo io non ce la facevo, dopo un po' di minuti ero proprio una ruota sgonfia non ce l'avevo energia a livello fisico è stato studiato che fa male alla salute sia lamentarsi che stare in un contesto di molti lamentosi fa male proprio alla salute quindi dobbiamo trovare soluzioni e ti rende anche stupido questa è simpatica ma è vero ho trovato un bellissimo articolo su questo argomento sia chi si lamenta che purtroppo anche chi ascolta purtroppo questi lamentosi costantemente atrofizza la parte di cervello che è responsabile per quello che deve fare il cervello cioè trovare soluzioni cioè si atrofizza quella parte del cervello che noi in cambiamarcia chiamiamo del problem solving quindi non trovi più soluzioni ti lamenti e basta e addirittura ha effetti anche sul cervello di chi ascolta quindi penso di aver dato dei buoni motivi per cui questa risposta è molto molto intelligente io farei così Chris se per te va bene prima vorrei spiegare perché lo fanno non sono pazzi anzi sono dei motivi molto intelligenti per cui queste persone lo fanno poi voglio spiegare un po' qual è l'atteggiamento che dobbiamo avere e do tre strategie più una un pochino più tecnica però almeno tre più una strategie per difendersi dai lamentosi se va bene vado perché lo fanno perché lo fanno perché i lamentosi si lamentano naturalmente hanno un vantaggio da lamentarsi hanno vantaggio perché generalmente sono persone che soffrono un disagio poi il motivo sta a monte adesso non lo scandagliamo però stanno male sentono un disagio un disagio fisico oltre che emotivo e decidono di scaricartelo nello scaricartelo è come se avessero una anestesia quindi a loro fa benissimo questo che stanno facendo gli fa proprio bene naturalmente nel breve termine infatti non sanno che il lamentismo purtroppo crea dipendenza crea assuefazione cioè nel lungo termine diventi appunto il lamentoso e non ti fa bene e l'abbiamo detto poco fa e come dicevo e ti passano tutto questo stress e un altro vantaggio che loro hanno è che così non devono fare la fatica di risolvere il problema si lamentano te lo passano a te la verità sotto sotto è che non hanno nessuna voglia di affrontare il problema e te lo scarica e non fanno nessuna fatica per risolverlo questi sono i motivi per cui lo fanno guarda Silvio scusa se ti interrompo però mentre parlavi ultimamente una cosa che mi è successa proprio l'altro giorno con un vampiro energetico stile lamentoso sono tanti sono uscita sono uscita con un'amica che non vedevo da tempo da un paio d'anni e ha passato tutto il tempo della cena a lamentarsi a lamentarsi perché era ingrassata a lamentarsi perché non ha tempo per andare in palestra a lamentarsi perché non le piace il lavoro perché non ha tempo eccetera eccetera però mi sono resa conto subito che lei semplicemente aveva voglia di più sfogarsi e quindi non c'era di sicuro la voglia di trovare soluzioni perché iniziavo a dirle ma ascolta ma hai provato a sei soddisfatta della forma fisica hai provato a a iscriverti e magari andare in palestra mezz'ora anziché un'ora se non hai tempo eh no ma non faccio non riesco perché non ho la cosa a pranzo breve ma hai provato a ti interessa magari guardare se ci sono i corsi online guarda io mi trovo bene a fare a fare l'attività fisica con i video che trovi in internet eh no ma non riesco a c'era ogni ogni soluzione che proponevo c'era comunque poi una scusa hai fatto quello che non si fa hai fatto quello che non si fa è un bellissimo esempio esatto l'ha proprio capito subito dopo pochi istanti che non c'era assolutamente volontà di risolvere risolvere il problema ma semplicemente di sfogarsi di lamentarsi di restare però in quella situazione lì questo è bellissimo l'hai spiegata meglio di come l'avrei spiegata io è proprio questo il lamentoso è lamentoso perché non vuole non vuole risolvere si lamenta perché non vuole risolvere e l'hai detto benissimo c'è proprio una frase standard un sì due parole standard che usano i lamentosi quando gli cominci a dare perché noi vogliamo aiutare giusto noi vogliamo aiutare quindi gli diamo 3000 soluzioni perché le vediamo e la risposta è sempre sì virgola ma loro hanno sempre un ma io non lo so com'è possibile anche a me vengono adesso in mente un paio di amici qualunque soluzione ha funzionato per me e per il mondo loro sono sì ma a me io non lo posso fare ecco lì in cambia marcia impariamo proprio a vedere questa cosa qui e a non andargli dietro quindi adesso abbiamo visto spiegato splendidamente quindi il perché lo fanno e quindi qual è l'atteggiamento che io consiglio al nostro amico e a tutti quelli che purtroppo si trovano a lavorare a stare insieme a lamentosi il loro contesto è un atteggiamento di fondo che su cui lavoriamo molto noi l'atteggiamento deve essere quello della qui è una parola un po' grossa è quello della benevolenza se non ci riusciamo uso altre parole empatia anziché arrabbiarsi avere empatia per il lamentoso che ti sta facendo perdere tempo che ti toglie energia avere empatia perché tu riconosci che sta soffrendo avere compassione anziché avere risentimento ecco l'atteggiamento di fondo necessario per gestire lamentosi è questo atteggiamento come dire di comprensione anche perché nel momento in cui ci arrabbiamo ci risentiamo diventiamo autotossici cioè non solo lui ci trena energia e ci toglie salute ma anche noi stessi quindi quello che consiglio è di riconoscere che l'altra persona purtroppo sta male noi alleniamo per esempio il cambiamarcia lo alleniamo proprio con un con un modulo specifico sull'interazione empatica cioè impariamo proprio a riconoscere in modo empatico il disagio dell'altro quindi questo atteggiamento io adesso vi do tre quattro metodi però è questo atteggiamento che deve esserci dietro al rispondere all'altro al lamentoso questo fatto il cappello le strategie sono semplici poi naturalmente dipendono dalla relazione ora CJ per te era un'amica di due anni puoi pure dire puoi anche dire vabbè ciao o alla mia vicina che qui il mio primo anno in cui vivevo qui in Svizzera volevo fare amicizia volevo parlare tedesco e poi ho scoperto che lei mi massacrava cioè mi distruggeva emotivamente e quindi con lei ho potuto fare la prima cosa che si fa ignorarla o andare via cioè fare in modo che poi dopo il primo anno io non ci ho mai più parlato con questa signora quindi mi abito a fianco e sai faccio quel saluto trattenuto che ti fa capire che non ho voglia di parlare con te e vado via oppure quando ci troviamo a parlare ho sempre la pentola sul fuoco anche se qui in Svizzera non si usa tanto insomma trovare metodi per cui veramente allontanarsi da queste persone qua un altro metodo che si può consigliare è quello di farlo notare sempre dalla relazione ok però si potrebbe far notare ad una persona che si lamenta troppo bisogna sapere che lo fanno queste persone in un modo inconsapevole quindi potrebbe essere un metodo quello di fargli notare che guarda ti stai lamentando tantissimo io ho provato a darti quattro soluzioni non va bene nessuna facci caso quello può funzionare naturalmente il lamentoso ha un grande ego infantile ne parliamo spesso in queste live e potrebbe trasformarsi nel risentito quindi tu gli dici guarda che stai un po' esagerando e lui ah vedi no oltre a tutto quello che mi è capitato non mi stai nemmeno no mi critichi anche e questo succede quindi io dico con come si dice le precauzioni d'uso questa è una strategia possibile l'altra che mi fa sempre ridere quando la racconta Mirko il nostro insegnante quando racconta Mirko mi fa sempre ridere racconta del casco di banane cioè la zia che rompe le scatole la zia più anziana e rompe le scatole lui cambia argomento la distrae con mai visto le banane quanto costano al supermercato sono aumentate del 30% quindi la distrazione ma perché la distrazione questo è interessante perché veramente il lamentoso è in un momento di ipnosi cioè è ipnotizzato è inconsapevole abbiamo detto lui è ipnotizzato quindi trovare un metodo per distrarli è anche porta i suoi frutti dopodiché e questa è un pochino più tecnica nel corso Cambia Marcia noi impariamo proprio tutte le tecniche per interagire con persone sotto stress persone che stanno soffrendo perché abbiamo detto che il lamentoso è una persona sotto stress che sta soffrendo questo mi sento di come dire di riassumere adesso la mia risposta per questo ragazzo dicendo che così abbiamo capito il perché lo fanno non hanno voglia di non hanno voglia di risolvere l'atteggiamento che stavo dicendo di benevolenza di comprensione che consiglia dal ragazzo e poi abbiamo visto queste strategie ovvero adesso le vado un attimo a rivedere quindi di allontanarsi fargli notare distrarre oppure io consiglierei proprio se veramente il suo ambiente è così purtroppo malato perché veramente il lamentismo poi fa male se è un se è così un ambiente così avvelenato io gli consiglio proprio di fare un corso sul sulle tecniche di comunicazione per gestire i i i lamentosi grazie penso sia un po' spero che sia stata utile la mia risposta assolutamente sì Silvio io ti ringrazio anche a nome di destinati ascoltatori prima di salutare tutti quanti io ricordo una volta di più che sotto nel primo commento trovatevi link per iscriversi al corso 100% gratuito cambia marcia stat un corso all'interno del quale trovate tutte le tessere del metodo cambia marcia io vi ringrazio Silvio e vi do appuntamento alla prossima puntata di Radio Coltiva alla crescita ciao ciao a tutti ciao ciao ciao